Ciao a tutti, sono Andrea, gioco a golf da 20 anni più o meno, sono venuto qui a esokinetic per un problema ad una spalla, attualmente per un problema ad una spalla, sono stato già paziente del centro esokinetic 5 anni fa più o meno per un problema ad una schiena. Mi sono trovato benissimo in questo centro, sia con i fisioterapisti che sono fantastici, sono bravissimi, migliori, sia con un ambiente che è un ambiente che parla di sport, quindi comunque è un bello ambiente. Ho lavorato parecchio per un problema alla spalla, essendo un golfista che è una cosa diciamo abbastanza normale. Lavorando molto con i ragazzi sia in palestra che in campo, in campo sono riuscito a ritrovare il mio movimento, il mio swing, il mio sport appunto. Ho intrapreso questo percorso molti anni fa e spero di riuscire a farmi una carriera in quanto diventare professionista appunto di golf. Se riuscirò a fare anche questa cosa dovrò dire grazie ulteriormente anche ai ragazzi di esokinetic. Volevo salutare tutti, spero di non ritornare in più a esokinetic o meglio spero di rivedere in un altro contesto tutto questo bellissimo ambiente.